Hai acquistato il cd qualche minuto fa ora grazie per aver preso il cd grazie le darò quello rigato no ragazza giro li vedo bell'incassi e potrebbero prenderci laguna sul serio e largo io a destra attenzione solo a questa torretta vediamo se ci sale ok mola la torretta mola la torretta lui easy buona scalini buona scalini ci sta facciamo st'ultimo che mi ha fatto bene ci sarebbe ci sta ci sta se lo facciamo fatto bene facciamo dei buoi punti a win con 10 kg win con 10 kg andiamo in top 50 aspettiamo le tue che prende la gugan usciamo raga vai 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 cerchiamo di prendere il vento e andiamo non mi fido a stare troppo fermo avete preso il rift o no non fatevi vedere non fatevi vedere stanno rifstando si stanno allargando in centro zona attenzione mongolfiere questa sopra non ha nessuno allora non sono ancora felice però io ho messo in una posizione che secondo me è interessante adesso noi continuiamo non possiamo più fermarci ma prima di andare avanti con il video ragazzi voglio ricordarvi la nuovissima promozione di level up con il nuovo gusto black edition che quest'anno invece si chiama titan guardate che meraviglia ragazzi lo abbiamo visto anche l'anno scorso il packaging era tutto nero quest'anno invece si vede proprio questo colore grigio che sta davvero molto bene il gusto è more ribes nero e assai vi garantisco che ha un profumo incredibile semplicemente aprendolo tra l'altro ritorna anche una promo devastante con il codice xuderone 2 avrete il 2 per 1 quindi vi basta acquistare un prodotto e scegliete un altro che vi arriva a casa completamente gratis passiamo però all'assaggio come sempre mezzo litro d'acqua lo sapete meglio di me lo sapete meglio di me guarda qua un misurino di prodotto alle e nero e nero avvitiamo bene e poi ce lo ricordiamo tutti shake 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 una bella shakerata e voilà ragazzi il nostro level up black edition è subito pronto ad essere consumato apriamo mamma che profumo intenso adesso riconosco la mora in ribes andiamo all'assaggio buono buono la dolcezza è perfetta un gusto che potrebbe piacere a tanti di voi vi invito ragazzi a provarlo e approfittare della nuova promozione level up fatto dai gamer per i gamer ci vedono in mare siamo morti se riusciamo a fare la rotation ci impostiamo noi buona la top dai 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 l'abbiamo fatta bene la rotation e tu non ti devi muovere ne avete uno vicino raga ecco poi ecco poi dai dai morto si si basta basta così dovremmo cambiare bush gli altri sono ora ci guardano questo qua lo potete snappare questo qui quale nulla nulla ormai no abbiamo 349 punti su god ci siamo beccati 249 pr facendo è il power ranking cioè io pioi pr e neanche a sinua 10.000 totale è quasi è quasi 3.000 in medio oriente lei luciorone fermo fermo sono in quattro jack devi stare tranquillo sì ma tanto non sanno dove sono c'è un botto di gente appena appena scoppia la bolla vado di me 26 bianco porto 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 via 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 con la scuola e tu non può venite da me venite da me bravo nettuno questo dovevi fare abbiamo avete un barile avete un barile si si no non più non più non più non più altra bolla scudo nettuno altra bolla scudo nettuno si tira sta bolla scudo nice ragazzi devo togliere quello che ho distrutto un fortino distrutto un fortino voglio vedere se lo distruggono ci provano ci arrivano niente sono molto in alto non è un problema per noi abbiamo un botto abbiamo tutta una free zone qua jack devi guardare quelli qua col cecchino se vuoi cecchinare eh lo so ha messo il buoncato hai fatto molto bene questo è un ottimo bunker jack ma non dovrebbero arrivare vai nel bus col cecchino vai nel bus col cecchino così non stai fermo ci sono quelle che sono la mongolfiera che devono ruotare questi qua sotto di noi ragazzi attenzione anche appena gli scoppia la bolla scudo gli vado di gugan eh stai sopra zekron guarda tu 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 ti vedo rivedo 25 blu vai vai mandalo indietro mandalo indietro ok god bravi ragazzi ragazze gugan ce l'ho io dov'è bravo bravo nettuno bravo nettuno glielo tiro giù glielo tiro giù glielo tiro giù gli ho fatto malissimo a lui vai 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 eccolo qua un altro no no chi è che l'ha messo ce n'è un altro lo tiro adesso calmi no no non lo posso tirare venite ragazzi venite ragazzi venite ragazzi non pensate al fight 100 andiamo 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 che dobbiamo andare ragazzi si jacopo ce ne hanno attaccate ragazzi già vanti qua 350 attenzione nettuno io sono free eh io sono free se volete sei free si la porto io la porto io vai zek portalo qui e tu devi stare attento e guardare tutto tu eh che io guardo loro cerco di coprire eh no non è tanto free ma l'ho buttato dentro no no non è free non è free non è free ho attaccato tutto sono attaccato io no è vero non bugga non bugga grafico tienalo su solo tu eh tienalo tu solo tu è stannato raga è solo è solo raga tu continua a curare continua a curare è morto bravo nettuno finiscilo vieni su andiamo qua a destra eh qua a destra no 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 non lo so c'è dentro qua dentro 45 bravo nettuno ok le padate ragazzi ho il bolle scudo prendi le prendi le prendi le prendi le non è un problema tira la quinta uno tutti nel bush bravissimo nettuno questo li ho fatto malissimo a tutti la bolla ragazzi sfruttate l'unice ma che abbiamo avete pure avete pure a 0 bravo zek rom bravo zek rom venite ragazzi venite zek rom ma la guarda position ho toccato tutto morto abbiamo la schifo abbiamo l'attenzione e hanno cechinato non ci credo sono sotto sono free vieni vieni jack no jack no 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 soprattutto sopra da sopra da sopra mi sta prendendo quello bravi copritelo copritelo non pensare a me zek rom ha craccato l'ho craccato quello sopra devi continuare zek devi continuare ancora sei secondi ma non ci sono anche io bravi ragazzi no 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 niente arrivano io ho me di mister 150 anche splash dove nettuno ne arrivano altri ne arrivano altri ne arrivano altro niente zek ci copri eh sì più o meno li vedo gli altri craccato one hit minchia nettuno non so dove sei niente lì dentro marto vola uno uno marto bravissimo zek c'è quello sopra che scende ragazzi c'è quello sopra che scende 100 marto è un mad miss non lo posso prendere ho 20 di vita 29 crack qui ragazzi let's go let's go no no nice what a fucking match bravi 396 punti 396 punti bravi ki Grazie per la visione!